Allora, io devo fare una piccola ripresa a scendere, eh! Se provo a passetto, a corsetta lenta Non so come viene la ripresa, però me la voglio immortarla È un bel sentiero Ti dico che sulle gambe si sente, eh! Che spettacolo! Io me la farebbe pure oggi di pomeriggio, a cuore! Non so come Non so come La barrietta Ecco No, no! Io devo arrivare laggiù il parcheggio delle macchine mettiamo lo stacco perché la memoria è quasi piena le gambe me le sento eppure vado a correre al giorno il proprio sentiero segnato, vedete la ghiaia, i sassi siamo sul monte del millo guarda l'avrò fatto almeno uno un pezzo da ripresa 100 metri guardate che non fatti non so, 600-700 metri vediamo un po' come fermo qua un attimo giusto per vedere ecco qua io fermo un ciaso sta vabbè stacco dai la memoria è quasi piena ciao ciao eccomi qua ciao ciao ciao